Invece questo qua è un po' più vecchio Questo è uno che un bel giorno fu chiamato a suonare come si dice dalle parti mie, Kurtatomirada Nel senso che erano andati tutti, ne mancava uno buono e gli hanno fatto chiudere il concerto Vediamo chi di voi Pensa che l'ultima immagine che si vede di quest'artista, lui sta suonando E' gente che scava in mezzo alla monnezza rimasta dopo tre giorni di concerto e si mette un paio di scarpe Sessi E' la G.B.A. Uno non sapeva suonare la chitaria perché non chiedeva un filico di te con i gatti La rosamava col palma a bocca dello stomaco E' la G.B.A. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì.